Avviata la 34esima edizione del progetto di storia contemporanea indetta dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico del Piemonte. Gli studenti che intendono partecipare possono iscriversi utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte, inviandolo entro e non oltre mercoledì 15 ottobre 2014 alla segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione via fax o per e-mail.